Momenti di paura e panico e spiaggia a Macchitella nel tratto adiecente al torrente Gattano. Il branco di randaggi che da mesi ormai si aggira nella zona ha aggredito una famiglia di origini tedesche. A farne le spese è stato uno dei due figli della giovane coppia, Arthur, di otto anni. Uno dei cani lo avrebbe inseguito e ferito colpendolo all'orecchio. I feriti sono stati trasportati immediatamente in ospedale, madre e figlio sono stati sottoposti a certamenti e i sanitari hanno dovuto medicare le ferite con diversi punti di sutura. Il bambino è stato poi ricoverato in prognosi riservata precauzionale nel reparto di chirurgia del Vittorio Emanuele. Le ferite sono gravi ma non è in pericolo di vita. Provvidenziale l'intervento dello staff tecnico del GLFC che stava iniziando la preparazione ieri pomeriggio al mattè di Macchitella. Sono stati loro a mettere in salvo la famiglia e disperdere momentaneamente i cani che poi si sono avventati su un altro gruppo, padre e due bambini scampati al branco solo dopo essersi tuffati in mare e allontanati dalla spiaggia. Sul posto sono arrivate anche due pattuglie di carabinieri. Anche i militari dell'arma sono stati attaccati dai cani e sono stati costretti a esplodere diversi colpi di pistola per disperdere gli animali. Tanta paura ma soprattutto tanta rabbia nel racconto di Massimo, il massaggiatore della squadra di calcio tra i primi a intervenire. La cosa che ancora fa più rabbia è che subito dopo che ho alertato i miei colleghi al 118 che sono venuti a prendere la bambina dopo circa 20 minuti un'altra coppia di turisti del nord che li abbiamo trovati in acqua perché si sono messi ad urlare che a sua volta questi tre cani li hanno aggredito, hanno aggredito pure loro. Voi cosa avete fatto a questo punto? A questo punto io con gli altri ragazzi e lo staff abbiamo corso contro i cani per farli scappare in modo tale che il padre e il figlio ci sono fuori dall'acqua e supportati dalle forze dell'ordine dei carabinieri che sono arrivati subito in maniera tempestiva e ci hanno coadjuvato nel farli scappare. Tanta paura oggi? Sì, abbastanza, soprattutto non solo la tanta paura ma un'immagine di gelo che non va. L'amministrazione intanto ha deciso di interdire la spiaggia sulla quale si è verificata l'aggressione fino a quando la zona non sarà rimessa in sicurezza. È un fatto che non deve più accadere che ci impone una riflessione e responsabilità da parte di tutti. Occorre la giusta pratica amministrativa e la giusta pratica della popolazione e dei cittadini che devono collaborare con l'amministrazione affinché non si creano questi gruppi di cani randaggi perché più volte siamo venuti in questo posto, più volte abbiamo anche accalappiato dei cani ma ogni anno i gruppi di cani si creano ma si creano perché c'è un abbandono da parte di qualche imbecille e c'è anche qualche imbecille che viene a dare da mangiare. Quindi occorre necessariamente la sinergia da parte di tutti gli attori che devono debellare il fenomeno. Quella di ieri è l'ennesima aggressione a opera dei randaggi di Montelungo. Il comune aveva incaricato una ditta per catturare il branco già segnalato in passato ma la società di Catania ha ritenuto di non proseguire il servizio di tele narcosi poiché qualcuno porta scarti di macelleria quasi ogni giorno nella zona del campo Mattei di Macchitella rendendo vano ogni tentativo di far entrare nelle gabbie trappole i cani. Oggi l'ennesimo sopralluogo da parte dei responsabili della ditta. Abbiamo accalappiato alcuni di questi cani però purtroppo gli abbandoni sono sempre tanti evidentemente riescono a ripopolarsi con molta velocità. Loro qui individuano un habitat perfetto perché hanno il posto dove rifugiarsi hanno l'acqua e hanno evidentemente qualcuno che gli porta da mangiare. Difendono il loro territorio. Come pensate adesso di intervenire dopo quello che è successo ieri? Rifaremo di nuovo un altro intervento mirato installeremo delle gabbie nuovamente delle gabbie e sorveglieremo la zona e speriamo di riuscire a prenderli tutti.